Una giornata veramente emozionante, fortemente voluta dalla presidenza Nicola Laurenza e grande soddisfazione nel vedere tutte queste famiglie, tutti questi piccolini allo stadio. Questo è il calcio che voglio, è un'emozione bellissima, spero di poterlo ripetere a breve, magari per il 26 di dicembre che sarà un'altra giornata di festa. Loro sono il nostro futuro. Sottili ha dichiarato che vuole una partita ad esempio, una partita sportiva, corretta. Poi venga ovviamente il risultato, però prima l'esempio. Noi siamo un modello educativo per questi bambini, i bambini crescono per imitazione di modelli esistenti, quindi noi dobbiamo dargli dei valori positivi da imitare perché un domani saranno gli adulti che formeranno a loro volta i loro figli, quindi questo è l'esempio che dobbiamo dare. Quest'idea si sta dimostrando di grande successo e quindi pensi che si possa ripetere? Sì, il 26 dicembre vorrei ripeterla. C'è solo un presidente, un presidente. E' solo un presidente. E' solo un presidente. Grazie. Grazie. Andiamo in televisione? Sì. In televisione. Grazie. 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 Veidas la cosa c'è... Eeee... Fa scelęd me! Dove ti sei? Ssimo sotto! Ai piùießen! Sido sotto! Dai! Ricordate... Sab Saudi! Avvenire!!! Aumentare Aumentare Ciao Forza Marese Forza Marese Forza Marese Forza Marese Ciao 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 Forza Marese Ciao Ciao Buongiorno A due Ehi Buon tempo Vai Ale Ale Salute 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 Ciao No! No! Voi Matteo! Voi, vai Matteo! Voi! Voi! Voi, saluta! Voi, vieni, clicca da me! Vieni, saluta! Vieni, saluta! Vieni, saluta! ... Forza pepia! Forza pepia! Ciao, ciao! Vai... Grazie a tutti. Ciao! Ciao! Grazie! Grazie! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.